Ciao, in questo video ti mostrerò come resettare un orologio Casio G-Shock GA-2100 o GM-2100, se l'ora analogica e l'ora digitale non corrispondono o se la lancetta del giorno della settimana non punta correttamente. Primo passaggio tieni premuto il pulsante in basso a sinistra per 3 secondi per mettere l'orologio in modalità ora. Tieni premuto il pulsante in alto a sinistra affinché non vedi S, U, B sullo schermo. Usa i due pulsanti sul lato destro per puntare la freccia del giorno della settimana su domenica. Premi una volta il pulsante in basso a sinistra e attendi che le lancette dell'orologio smettano di muoversi. Usa i due pulsanti sul lato destro per mostrare l'ora di mezzanotte sull'orologio, ovvero sia la lancetta delle ore che quella dei minuti devono puntare verticalmente verso l'alto. Premi una volta il pulsante in alto a sinistra per uscire dalle impostazioni. Ora dovrai impostare manualmente l'ora e la data sull'orologio, puoi trovare un video nell'angolo in alto a sinistra su come impostare l'ora e la data. Grazie per aver guardato questo video e iscriviti al mio canale.